Libertango, che è musicista, Astor Piazzolla, mi chiamò questo personaggio e dice «Sei libri il 23-24?» «Sì, con chi devo suonare?» «Un certo Astor Piazzolla!» «Astor Piazzolla, va bene, scrivi!» La sera andrei a suonare e c'era il grande Marco Ratti. Dissi «Marco, per caso ci sei anche tu?» «Il 23-24?» Dissi «No, ma per chi è?» «Un fisarmonicista!» «Astor Piazzolla!» «Tullio, Astor Piazzolla, il più grande musicista del Novecento, non suona la fisarmonica, suona il bandoneon!» «E cos'è questo bandoneon?» «Ignorante, non lo sapevo!» Arriva il giorno e arriva Astor Piazzolla. Lui mi guardò e dice «Scusa, io ho mai usato la batteria!» «Nel tango non esiste la batteria!» «Capito?» «Ma dico, cosa devo suonare?» «Apre questa scatola di legno, tira fuori un bonsai della fisarmonica!» Era il bandoneon piccolo, appoggia il piede sulla sedia e incomincia a fare degli archi. Attacca! «Tan-tan-tan-tan!» «Tan-tan-tan!» «Tan-tan!» «Continua!» «Tan-tan-tan di sì!» «Continua!» «Tan-tan-tan!» Dopo quattro battuti dice, bueno, esto es libertad.